Musica Ah, buonasera, non vi avevo visto! Benvenuti nel mio laboratorio! Adesso vi illustrerò una delle mie nuove invenzioni Diciamo che è un sacco di tempo che ci lavoro Ma questa sicuramente vi farà fare il balzo in avanti Allora, vi faccio vedere qualcosa Allora, dunque Allora, praticamente diciamo che il progetto Ho dovuto fare anche delle assonometrie Però, diciamo che Eh, no, però Allora Praticamente si va incontro a una necessità Che ha l'uomo moderno Che ha di portare con sé nella Come si chiama questo? Sacca per i soldi Di portare con sé delle cose Che vanno ben oltre il loro utilizzo Ma trascendono e si trasformano E diventano altre cose Per esempio Come posso dire Che ne so Tipo Boh, i Transformers per esempio Allora, io Sono partito da dei materiali Comunque a chilometri zero Del territorio Per revolverli E farli E farne una Un Dei componenti Per poi costruire Una cosa Che Eh Diciamo Trascende la sua forma E si mistifica Tutta insieme Diciamo Ecco Allora Se mi volete seguire Un attimo Allora passiamo Vi faccio vedere Mi do un'idea No, questo mi Questi sono ancora patented Cioè Mi raccomando Se avete figli Fatevi usare Le forbici Con la punta Protondata Perché la scienza Va bene Ma in sicurezza Allora Adesso vi presento L'oggetto Della mia invenzione Siete pronti? Bam Quello che può sembrare Un comune biglietto Da visita In realtà Non è solo questo Se lo giriamo Possiamo procedere Innanzitutto A seguire le istruzioni Comodamente riportate Nella parte Retro Stante Del biglietto Piegare il biglietto A metà Abbiamo un biglietto Piegato A metà Adesso Prendere le forbici E procedere A tagliare Lungo La linea Tratteggiata Piano E questo è un momento Molto delicato Ce l'ho quasi fatta Tagliamo anche di qua Radiazione palpabile Chissà se questa Invenzione potrà Vedete Questo che prima Era un biglietto Da visita Adesso È diventato Un altro oggetto Ma che oggetto è? Unger Ghissà Unger 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 Bai Unger Basta fare così, ecco, bellissimo, bellissimo. Ancora una volta sono riuscito nel mio intento, ancora una volta ho preso un oggetto inanimato e l'ho reso vivo. Questo è l'orgoglio della mia opera. Grazie, un cordiale saluto e a presto, arrivederci, arrivederci, sì, sì, nel nostro laboratorio di creatività e arte allo stesso modo, proprio tipo unite.